sono camilla capurso ci troviamo nell'azienda di famiglia che conduco insieme a mia sorella e a mio papà dove coltiviamo le uve per produrre i vini tipici veronesi valpolicella e amarone da qualche anno siamo diventate la prima buyer for over farming in italia perché ci interessa capire come sia possibile fare viticoltura sostenibile anche quest'anno abbiamo deciso di utilizzare dei prodotti di natura biologica nello specifico abbiamo utilizzato il serenade aso prodotto già utilizzato gli scorsi anni per il contenimento e la difesa contro la botrite nelle fasi di preraccolta quest'anno abbiamo provato un nuovo prodotto di natura biologica per il controllo dell'oidio si chiama sonata sono stati sostituiti quindi gli ultimi trattamenti che solitamente facevamo quello zolfo con questo nuovo prodotto siamo molto soddisfatti dei risultati l'utilizzo di sonata infatti ci ha permesso di ridurre sia in campo che in cantina il carico di zolfo con risvolti positivi sia per i collaboratori in campo che per le operazioni di vinificazione anche quest'anno quindi abbiamo voluto utilizzare uno strumento in più per raggiungere una sostenibilità 360 gradi grazie grazie grazie